buongiorno benvenuti a questa rasseglia stampa di oggi domenica 12 costo vedete un po dove sto insomma uno dice ma per quale motivo ti metti a fare una diretta su da un posto di questo tipo insomma è una fissazione questa zuppa di porro che parte tutti quanti i giorni quali sono i grandi temi della giornata è presto detto non ce ne sono e uno delle questioni che su cui si dibatte di più su tutti quanti i giornali questo clima estivo e che fine ha fatto l'opposizione in particolare la fissazione che fine ha fatto il centrodestra e tutti i giorni si interroga ci si interroga sul centrodestra che si dà per morto può anche darsi anzi sono convinto che se non sia morto stia lì lì insomma terminale però insomma mai tanta attenzione nei confronti di un malato come quello del centrodestra è un'alleanza senza futuro dice oggi pulito in prima pagina sul corriere della sera il centrodestra così come lo conosciamo è morto berlusconi crono insomma non è un'idea nuova soprattutto qua in grecia sappiamo bene qual era l'attitudine di crono cioè di mangiare tutti quanti i suoi figli da uno di questi è scampato e quello che è scampato pare essere salvini ma il futuro del centrodestra con salvini dice pulito sarà completamente diverso rispetto al centrodestra cui siamo abituati noi e toti chiede in intervista al corriere della sera le primarie anche uno forse di quelli che in forza italia sin da subito sin per primo si è reso conto di come si dovesse comunque cercare di fare un accordo con come si chiama con salvini cosa un po' diversa rispetto invece a una sfumatura diversa rispetto alle interviste che oggi ha fatto tagliani su vari giornali in cui dice bisogna lavorare per l'unità con la lega però la sfumatura un po' diversa sembra quasi subita la imposizione per tagliani sembra un po' meglio digerita come possiamo dire da toti e sallusti dice una cosa che anche questa ha grande senso e cioè dice che sembra che forza italia sia diventata un nemico per la lega e allora ci sono due possibilità dice sallusti la prima è che ci sia un delirio di onnipotenza di salvini e la seconda è che ci sia un accordo segreto con di maio e che frua dall'altra parte lo stesso salvini dice da altre in altre fonti in altri giornali che in realtà e non solo lui giorgetti oggi un'intervista che fa sul libro dice ma insomma forza italia è diventata come il pd è alleata del pd ma che ci stiamo a fare con loro e la tesi dunque contrapposte tra forza italia e lega devo dire che se il malato non è praticamente morto è certamente terminale insomma il centrodestra come l'abbiamo conosciuto è fottuto e terza chiave di lettura è quella del fatto quotidiano di oggi sempre sul centrodestra salvini fonda la lega riciclati e chissà che avrà fatto mai di male salvini si sia da preso qualche amministratore che non piace a travaglio e a loro che sono molto rigorosi nella scelta dei loro alleati e quindi avranno preso degli alleati al centro sud dice il fatto quotidiano che sono avanzi del centrodestra legale locale come se fossero avanzi di galera per loro la cosa vale uguale a proposito di avanzi di galera e di condanne oggi forse solo capezzone sulla verità si accorge che per carità è non è un avanzo di galera però è stato condannato per la seconda volta e saviano condannato per la seconda volta e sapete per quale motivo perché ha considerato camorrista un italiano che non è camorrista un incensurato che non è comorrista e non l'ha voluto togliere dal suo libro e capezzone nota unico oggi in italia come per la seconda volta sia stato condannato cioè dare del camorrista a qualcuno che non lo è non è una cosa che così fai finta di nulla è una cosa che per fortuna in capezzone si è accorto sul libero andiamo avanti sulle questioni economiche che invece sono molto più interessanti anche se sono tutte quante da cucinare oggi Giorgetti ci dice stiamo lì sarà un mese durissimo io tornerò il 27 agosto dovremo mettere insieme le proposte di tutti i ministri da lì cucinare la finanziaria andiamo per ordine repubblica oggi sulle pensioni è il più tranchant perché ha letto il disegno di legge presentato non da pinco pallino che stava l'anna barchetta di minconos uno scappato di casa dal presidente dei deputati leghista Molinari quello che si dice orgoglioso del decreto dignità dice sono molto contento che l'abbiamo provato il decreto dignità un leghista e dal capogruppo del momento 5 stelle e prevede questo disegno di legge di cui repubblica è entrato in possesso anche se non è ancora registrato presso il sito della camera di cui il giornale parlò alcuni giorni fa la il taglio delle pensioni sopra i 4 mila euro il taglio delle pensioni e questa è la vera novità non avverrebbe soltanto contributivo e non contributivo ma in funzione dell'età di pensionamento a cui sono andati in pensione coloro che oggi hanno più di 4 mila euro di pensione quindi è basato sull'età e non soltanto sulla contribuzione o retribuzione come sistema di accredito della proprio assegno pensionistico quindi una novità bisogna vedere poi se queste cose le faranno e sia molto chiaro perché una cosa un disegno di legge fatto anche da due autorevoli rappresentanti della maggioranza una cosa poi che questa roba qui passi perché sarebbe oltre che con dei limiti di incostituzionalità perché qui insomma cosa si dice tu sei andato in pensione con le regole del 1990 in cui si prevedeva di andare in pensione a 62 anni oggi noi diciamo che invece in pensione si va a 64 quindi tu vieni penalizzato perché sei andato due anni in anticipo retroattivamente insomma mi sembra una fornero bis quella che si rischia di fare con questa norma quindi sarà un po' diversa vedrete e poi andremo a vedere cosa sarà il testo finale. Tria secondo Bisignani oggi sul tempo Luigi Bisignani dice ai giorni contati sostanzialmente non si parla più con Salvini scrive Luigi Bisignani e quindi ci sarebbe una grande irrequietezza all'interno del governo anche questo vivere per vedere non potremo fare altro. E sull'economia anche interessante l'intervista di Giorgetti ve l'ho detta al Libero il quale oltre a parlare della centrodestra di Forza Italia che sarebbe come il PD dice mi aspetto attacchi speculativi Boris mi chiede 4.000 euro lordi o netti io immagino che siano netti i 4.000. Comunque quello che ho letto oggi sui giornali quindi è nel disegno di legge sono 80.000 euro all'anno di pensione quindi 80.000 euro all'anno di pensione sono 80.000 lordi e che equivalgono più o meno 4.000 netti. Sì sono in Grecia. Allora Giorgetti dice mi aspetto un attacco speculativo sull'Italia quindi dopo la Turchia il rischio è che ci sia quest'estate un attacco speculativo sull'Italia. Ultima questione fiscale oggi è la pace fiscale cioè come funzionerà la pace fiscale mi sembra molto dettagliato il pezzo del sole 24 ore su cui oggi apre il quotidiano rosa della Confindustria giallo della Confindustria come cavolo si definisce giallo della Confindustria beh la pace fiscale 4 stadi pace fiscale sulle cartelle esattoriali io non so chi ce l'abbia perché ci sono state le rottamazioni ma forse ci sono ancora sulla fase ante accertamento sulle liti potenziali e sul contenzioso tributario tra primo secondo e terzo grado funziona così ed è la cosa più interessante forse quest'ultimo il dettaglio se io sto litigando col fisco ho vinto in primo grado e il fisco al ricorso io posso chiudere la partita pagando il 50% ho vinto perciò io in realtà rischio di stare ancora 4-5 anni in questo casino fiscale ma se la voglio chiudere 50% subito è chiusa ma se io ho vinto anche il secondo grado e voglio chiudere addirittura si arriva all'80% di sconto make sense mi sembra una cosa sacrosanta sacrosanta quindi spero che questa cosa la facciano ed è un'idea più che buona quella della pace fiscale l'idea che poi ci siano tutti questi ricorsi da parte dell'agenzia delle entrate sulle vittorie dei contribuenti insomma anche questo da da pensare sul loro spesso accanimento nei confronti di chi loro presumono non abbia pagato tre questioni diciamo un po più light di oggi il papa tutti quanti ne parlano ieri la folla al circo massimo con un caldo pazzesco tantamila ragazzi che lo ascoltano l'unica cosa che mi diverte se volete un po più chic perché l'idea di cambiare il padre nostro perché nel padre nostro all'inizio c'era non indurci in tentazione e papa francesco lo vuole cambiare in non abbandonarci alle tentazioni la cosa non è insignificante dal punto di vista filosofico e liberale perché nel nostro idea non indurci in tentazione come se ci fosse questa divinità che ci induce in tentazione e farsi non abbandonarci nelle nostre tentazioni invece il nostro individuo che si abbandona le tentazioni posso attaccarvi una pippa di due ore non lo faccio siamo in grecia divertiamoci stiamo tranquilli andiamoci a fare un bagno che siamo di domenica ma la cosa incredibile che il giornale dei vescovi l'avvenire parla di tutto anzi parla anche di questo ovviamente nell'apertura del giornale ma il fondo viene dedicato alle vacanze anche loro vacanzieri invece secondo me questo argomento del papa di ieri che non è la prima volta che lo dice era interessante per un fondo di avvenire ma ovviamente c'è Tarquinio chi si permette di prendere il suo posto al giornale dei vescovi molto bello se avete voglia di leggere un pezzo un po fuori dagli schemi quello di morizio molinari oggi sulla stampa l'apertura della stampa il fondo della stampa che si intitola il tallone d'achille del dragone la storia straordinaria di questo ragazzo di 27 anni disoccupato di hong kong che fonda un partito per l'autonomia di hong kong dalla cina e viene bandito dalle leggi diciamo cinesi contro il comunismo di hong kong contro il comunismo è scritto bene maurice molinari è molto bravo in politica estera e un piccolo dettaglio la domenica se non avete molto da fare questo lo potete certamente leggere si unifici a frenzi mauri punto me ne parla beh ne ho parlato nei giorni scorsi lo sapete sabrina ciao benvenuta alla zuppa non sapevo seguissi la zuppa e poi l'ultima cosa che mi ha interessato perché non la conoscevo in questo dettaglio è la storia di corbin come sapete il socialista laburista socialista inglese che ha fatto una cosa secondo me spreggevole spreggevole cioè è andato a deporre i fiori sulle tombe di settembre nero voi vi ricorderete nel 1972 quelle scene incredibili in cui un commando palestinese uccide alle olimpiadi mi sembra nove atleti israeliani che come unico difetto quelli avevano erano quello di essere israeliani li prendono e li ammazzano l'avrete visto monaco l'avrete visto in tanti film se non l'avete visto vedetevelo perché è una di quelle storie più disgustose del terrorismo internazionale bene questi terroristi ammazzano dei giocatori che sono indifesi che non c'entrano nulla nel tempio della diciamo della pace della libertà che dovrebbero essere le olimpiadi beh insomma fanno questa roba qui e cosa fa corbin il leader socialista inglese va nel 2014 non nel 1800 va nel 1800 non poteva venire non nel 1980 cioè recentemente va sulle tombe di questi a deporre dei fiori come se fossero degli eroi porca puttana e questo è candidato alla guida di un paese come il regno unito grazie al quale nel 1848 poi si fece lo stato di israele io la trovo una cosa penosa come dice roberta una cosa mostruosa e una cosa per cui un leader politico poi noi ci lamentiamo dei nostri dei casini che fanno i vaccini non i vaccini i terroristi i razzisti eccetera ma il leader laborista va a mettere i fiori sulle tombe degli assassini di settembre nero tutto documentato dalle foto del daily mail una vergogna come dice katia in questo momento bene io direi che per oggi è finito ho finito mi sembra di aver detto tutto sui giornali di oggi domenica c'è poco e niente soprattutto perché qui si deve andare al mare al volo ciao condividete se vi piace questa zuppa ovviamente ciao ciao